Oh, 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 oh Sei tu, quanto tempo che ti ho aspettato E adesso finalmente che sei arrivato Illumina, la stanza che adesso tocca a me E ho la voglia che non lo aspettis La soltanto a che trovo adesso sono io che ti faccio ancora un pochettino toto E' un impromizzato Grazie. Adesso sono veramente emozionante. Grazie. Signori, l'archefice è l'ideatore del premio Lucio Dalla. Grazie. Non sapete e non potete immaginare la soddisfazione di una persona nell'aver fatto, nell'aver creato un progetto artistico del genere con tutte le difficoltà di questo mondo e ritrovarsi in mezzo a questa grande famiglia. Grazie a voi. Grandi! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La quinta edizione qui a Polonia premio Lucio Dalla 2017. Grazie Lucio, grazie San Luigi, grazie a tutti voi. Ciao, buonanotte.